no aspettate come è possibile che ho fatto hitmarker ma stiamo scherzando e per altri ragazzi sono giliprega sono qui oggi tornato perché ho visto che hanno aggiunto per fortuna colpo secco che è una delle mie modalità preferite prima di partire però vi ricordo che nel caso in cui raggiungessimo 200 likes a questo video regalerò a qualcuno che ha messo like ne sarò uno in particolare gli regalerò quello che vuole nello shop visto che vi sto facendo una valanga di vbucks usando salva al mondo quindi non ho problema a regalare quindi nel caso raggiungessimo 200 likes sappiate che vi regalo una scheda stessa cosa vale nel caso raggiungessimo i 100 supportatori per quanto riguarda il create code gilbeu che potete trovare là in alto a destra ricordo sempre che potete seguirmi sul canale instagram gilbeu tutto minuscolo con 2 mi pare e niente regal direi che possiamo partire tranquillamente e droppare le 20 pumps on con la batteria grazie a tutti 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 vi saluto